Valdediano Flute Festival, tutto presente nel Parco Nazionale del Cilento, un suo parere di merito visto che lei ha voluto fortemente questa iniziativa, soprattutto in questa location? Sì, è importante associare questi grandi eventi di valenza culturale, quindi che pensano ad una musica ad un livello alto, internazionale, per dare, come dire, una sponsorizzazione, una promozione di un territorio che già di per sé è un territorio eccezionale, che sta nel Parco del Cilento, Tegiano, una città meravigliosa, e in un complesso particolarmente interessante ed idoneo soprattutto ad ospitare attività di questo tipo. L'ente provinciale ha questa mission, che non è facile realizzare per le poche risorse che molte volte abbiamo a disposizione, ma che nello scegliere bisogna sostenere iniziative locali che però hanno un respiro nazionale ed internazionale, perché con questo tipo di iniziative avviciniamo i giovani, il territorio ad un livello alto della cultura e della musica, però facciamo anche apprezzare e rendersi conto del grande valore ambientale e architettonico delle nostre città e dei nostri meravigliosi centri storici. Vallo di Diano Flute Festival, quattro concerti, quattro tappe, completamente gratuite, a disposizione della cittadinanza, un evento da non perdere? Assolutamente sì, di questo sono molto grato all'EPT per il sostegno che ci ha dato e al parco e tutti quelli che naturalmente hanno collaborato a questa cosa. Sono molto felice di presentare questo festival perché è un bel momento per i musicisti in generale, per l'arte, ma anche proprio nello specifico per i flautisti, perché è un'occasione di incontrare delle figure leggendarie come ad esempio Davide Formisano, come ad esempio Maxence Larri che quest'anno festeggerà con i suoi 80 anni e Jean-Claude Girard. Naturalmente ci sarà anche uno spazio giovani dove suonerà la giovane flautista Elena Cimino con il trio Solitalian Quartet che è un altro trio prestigiosissimo, che è un trio diciamo locale che loro vivono nella provincia di Salerno e sono conosciuti già in tutto il mondo per il loro altissimo livello esecutivo. Analizzando nello specifico le date si parte il 30 novembre con? Il 30 novembre con Davide Formisano e Amedeo Salvato. Davide Formisano è un flautista che non ha bisogno assolutamente di presentazione, molto conosciuto, molto vicino all'Associazione Flautisti Italiani, ci dà una mano anche in delle cose organizzative con le sue conoscenze, con il suo apporto diciamo si umano al di fuori di quello che è il discorso artistico. Poi avremo l'otto un concerto con Elena Cimino, questa giovanissima ragazza che ha vinto già numerosi concorsi internazionali. Il 14 avremo l'incontro con Max Enzalari che è una figura leggendaria e che compierà i suoi 80 anni con noi e quindi di questo siamo molto felici. E poi il 20 dicembre per ultimo il concetto di Jean-Claude Gerard. Sono tutte figure molto importanti della storia del flauto, del flauto contemporaneo e del flauto del Novecento, per cui sono molto felice e orgoglioso di presentare questo cartellone.